Bene, terzo giorno di viaggio, siamo partiti alle 2 di notte, sono le 11? Le 10? Vabbè è presto comunque ancora, quindi siamo in viaggio da solo 8 ore, dobbiamo arrivare stanotte a mezzanotte, si è rotto qualcosa al motore, stanno usando un preservativo per ripararlo e del loro scotch medico del cerotto. Siamo in una valle lunare, su una grandissima medica pietraglia, mai vista una cosa del genere, tornanti su pietraglie. 4200 metri, fa un freddo cane e i giubbotti sono in alto nel bagaglio, però ho detto che piove un casino, non ce li fa prendere, quindi abbiamo un impermeabile in due. Ciao ragazzi!